SOR dalla freccia 18 al Sierra avionico. Avionico al 57, problema? Problematica main computer e loading SSDC. SOR copia. SOR dalla freccia 18. 18. È possibile avere un SSDC della Standard 20 Strike 002 dalla Sala Nav 54? Ripeti il nome per piacere. Strike 002. Standard 20 Strike 002, ci proviamo. Affermativo, grazie. Inizio da Cesaro. Avanti. Farica. Non riescono a capire se il problema è il loading dell'MC o se è la cassettina. Con il dito e micro switch della cassettina e carica. Sì, abbiamo già provato. OK. SOR, luce 02 for late power links, guidanza. No late. No late, luce 02. 18 dalla SOR. No. La cassettina dovrebbe essere fisicamente in arrivo. Copy, per info abbiamo problemi. Front, seat, back. Stiamo cercando di risolvere. Ma copiato. Dimmi se riserva assistenza. 18 da SOR, solo per info. Elicotteri Nova Feltria e Santa Sofia. Non ve l'avevo detto prima. Secondo. Solo per info, attività di elicotteri, Cervia, Standard, Nova Feltria e Santa Sofia. Copy. Copiato, problema risolto al back anteriore. SOR. Freccia, 1-8, problema risolto. Risolto with alcohol for late. Walter vai pure col sinistro. Walter, check in on me. Walter, check in on me. All in clear, motore destro ora. Walter, intendevi il motore sinistro? No, al destro, sono appena arrivati i cruci. SOR, luce 0-7, late warnings, alpha. 0-7, alpha, non late. Alpha, late. Valser, 2, confermi pronto. One minute. Valser, push ground. Luce 20 dalla SOR. SOR, avanti la luce 20. Missione approvata. Luce 20 copiata. Luce 2-0, with alpha, richiesta in the two rings. Alpha, no late. Luce 2-0. SOR, SOR, la luce 20 al suono. Luce 20, luce 20, SOR, SOR, copia. SOR, luce 0-5, 10 primi. La 0-5, 10 primi, S3-0. Grazie a tutti.